è un bel tempo oggi è un bel tempo c'è un po' di fila qui da balimund e devo andare proprio da lui ho fatto passare delle ore più che altro sono andato a dormire dall'app e pungiglione qui proprio perché aspettavo che il fabbo riaprisse perché voglio in pratica potenziare sia la spada nightingale che la squarcio del gelo squarcio gelido quella che mi avete detto che è potentissima la spada che abbiamo rubato a mercer in pratica squarcio gelido eccola qua il bestoglio subisce 30 punti di danno da gelo puoi paralizzare il bestoglio per due secondi ecco voglio potenziare queste due e sicuramente non avrò sono convinto che non avrò il materiale quindi ecco perché mi serve lui il fabbro sperando che poi anche lui ha il materiale che mi occorre niente facciamolo ciao bolly come va la pista abbondante anche se avrei preferito ancorare leggermente più vicino alla tenuta golden glow e perché non l'hai fatto quando mi sono avvicinato i mercenari assoldati da haringot per proteggere la magione hanno fatto cenno di allontanarmi dubito che voglia altri visitatori lavorare nella pescheria di riften è dura ma si guadagna bene quanti discorsi che si avviano pazzesco allora usiamo subito la mola allora ah però prima 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 bisogna mettere le tutti quelli accessori in più che mi fanno migliorare la forgiatura tipo l'anello il bracciale io ho poca roba a dire il vero secondo si trova roba migliore ma mi devo adattare allora vediamo adesso sicuramente aspetta un attimo ah sì perché grazie sì ok possiamo potenziare questa squarcio oggetto ma la chiave raffinata ce l'abbiamo quindi va bene però l'arco mi sembra la pietra lunare raffinata vediamo se c'era lui la spada writing non c'è ora che ci penso non c'è niente di meglio del profumo di una lama appena forgiata vero cerchi qualcosa per proteggerti o per infliggere l'anello la spada writing non c'è per quale motivo perché magari non si può potenziare più di quello che già è ce l'ha buono e se hai bisogno di forgiare qualcos'altro sto pensando perché ok qui abbiamo finito possiamo andare a questo punto credo credo che o perché abbiamo raggiunto un livello e quindi perché da quello che mi avete detto voi ma ho visto proprio già che le armi comunque si basano sul nostro livello anche cioè quindi se noi stiamo a livello 30 è possibile che l'arma che acquisiamo a un livello inferiore di quando noi possiamo stare a livello 50 quindi è probabile che io sto a livello forse massimo per quell'arma quindi ho già la spada writing al massimo ditemelo voi oppure cos'è che non non capisco ok allora bisogna andare da brignorf e carlaia che ci attendono alla pietra dove c'era quel simbolo che abbiamo capito che è il simbolo nightingale e vediamo un po' vediamo come andrà avanti adesso la quest me ne avete parlato davvero tanto bene non avete parlato troppo bene di quello che sto per vivere con la gilda dei ladri e non vedo l'ora tu chi sei maul requiem mi ha detto che fai parte della gilda se ti servono pettegolezzi rivolgiti a me guardi una direzione sbagliata maul dimmi di più si rovo nero è maven che manda avanti tutto si è fatta amici in alto se capisci cosa intendo ha anche legami con la confraternita oscura e la gilda dei ladri dunque è praticamente intoccabile ricordati se dovesse affidarti un incarico faresti meglio a eseguirlo senza discutere ok ci vediamo mi ha detto cose che noi già sapevamo di maven anzi abbiamo fatto diverse missioni ormai per lei e non ha fatto altro che riconfermare quello che già noi conosciamo va bene tra l'altro lui mi ricorda un po' Farkas scusa Mixela però ha la stessa voce è anche fisicamente bello robusto quindi me lo ricorda me lo ricorda allora bisogna raggiungere da quella parte bisogna andare e vediamo un po' sarebbe stato sicuramente migliore arrivare qui di notte no? è tutta un'altra atmosfera azzeccata con nightingale nocturnal e così via vabbè ormai ha fatto passare il tempo eh stanno aspettando solo noi sono felice di vederti cos'è questo posto? questa è la base dei nightingale scavata nel fianco della montagna dal primo dei nostri siamo venuti a cercare ciò che ci serve per sconfiggere Mercer Frey c'è un draghetto che ci vola sopra ecco adesso si vede anche l'ombra di cosa abbiamo bisogno? seguimi e cercherò di spiegartelo strada facendo oh una parte di montagna si è aperta avevo sentito il rumore allora parlami dei nightingale un tempo Gallus Mercer Frey ed io eravamo i componenti di quella che era nota come la trinità nightingale la trinità si è sciolta 25 anni fa quando Mercer Frey ci tradì uccidendo Gallus e gettando il suo corpo nelle rovine del santuario di velo innevato si questo lo so facevano parte della gilda dei ladri? indirettamente di solito la trinità viene scelta tra i ranghi della gilda sebbene la sua esistenza sia un segreto ben custodito qual è il loro compito? i nightingale proteggono il tempio di nocturnal un luogo noto come sepulcro del crepuscolo chi è nocturnal? è la signora della notte e dell'oscurità è la patrona di tutti i ladri di Tamrie non ho mai incontrato un ladro che venerasse qualcuno nocturnal non ama i culti e le riverenze non ci sono sacerdoti né sermoni niente riti né donazioni lei determina la nostra fortuna e in cambio esige un pagamento sembra un contratto della gilda sei più vicino alla verità di quanto pensi l'unica differenza è che lei non richiede un pagamento nel senso tradizionale del termine e che a volte il prezzo può essere piuttosto alto che tu ne sia consapevole o meno nocturnal stabilisce quanto siamo abili o meno nei furti so il fatto mio nulla a che vedere con magia o poteri devi vedere le cose in modo diverso hai mai notato come agisce la nostra fortuna? per esempio? un novizio che forza una serratura impossibile ho un cieco che si gira improvvisamente verso di te mentre lo stai borseggiando è attraverso questi mezzi così sottili che nocturnal ci influenza ok va bene in pratica lei ci aiuta con queste diciamo piccolezze tra virgolette va bene va bene siamo condizionati da lei una volta ovviamente che ne facciamo parte sembra che le piaccia vederci soffrire nessuno riesce a comprendere il comportamento di nocturnal sono stati scritti interi tomi sull'argomento esige il suo pagamento quando moriamo quando soffriamo si manifesta nel nostro dolore nessuno lo sa tuttavia il gioco vale certamente la candela diventerò un nightingale? personalmente lo spero si di qua prego eh c'era un'altra discussione però forse ci daranno l'opportunità dopo di parlare sono perplesso quanto te ragazzo andiamo andiamo Brigno faccio attendere tantissime avventure vai vai Carlaia sono davvero curiosissimo di saperne di più Carlaia certo non è che va in giro con armi scarse è un'armada dedrica insomma se il fatto suo è veramente molto abile questo lo sappiamo già ce l'hanno già detto lo stesso Mercer comunque ci ha detto quando fosse pericolosa ha degli occhi spettacolari dunque è questo il salone nightingale avevo sentito parlare di questo luogo quando sono entrato nella gilda ma credevo che non esistesse l'idea che i nightingale fossero solo una leggenda è stata alimentata di proposito dalla gilda è utile a distogliere l'attenzione dalla nostra vera natura che succede Brigno riesco quasi a sentire la tua fronte che si corruve sto cercando di capire perché sono qui ragazza non sono un sacerdote e di certo non sono religioso perché scegliere me? qui non si tratta di religione Brigno ma di affari si ce l'ha spiegato anche prima Brigno non era tanto attento non era molto attento è più veramente un contratto no? come ci ha detto questo è il salone nightingale sei il primo non iniziato a metterci piede da ultimo secolo se ora volete entrambi dirigervi all'armeria e rilassare la corazza nightingale possiamo cominciare con il giuramento il tempo passa e il mercer è ancora là fuori diamoci da fare oddio corazza nightingale allora a dire il vero forse immagino qual è la corazza più che altro perché se non erro qualcuno di voi nel mio video i vostri dova che aveva qualche corazza particolare ho avuto la la brillante idea di non andare a rivedere mai poi cioè forse una volta solo da rivedere quel video quindi magari a ricordarmi le cose o comunque nei vari forum gruppi molti hanno una corazza particolare scura e mi ha sempre affascinato ma ho cercato sempre di non prestare molto attenzione ma davvero molte molte persone la indossavano chissà se è quella ma credo proprio di sì allora come al solito cavolo questi questi sepolchi luoghi importanti sono sempre rovinatissimi vabbè sono chiaramente una spiegazione in tutto questo tipo la confraterna oscura che sta decadendo la stessa dei ladri adesso qui sono per i 25 anni che si è sciolto quindi è normale che messi in queste condizioni sperando che poi si migliora ok ci siamo aspettate la corazza knighting indossa la corazza si ok le immagini di illusioni costano meno 17% è uno aumenta il vigore di 40 punti la resistenza al gelo è aumentata del 50% l'armatura 62 è bella non me l'aspettavo è fighissima comunque sì forse era quella lì che avevo già visto molto probabile vediamo come mi sta addosso si è trasportando troppo peso guanti knighting la scassina è più facile del 25% gli attacchi a una mano infliggono danni maggiori del 25% ottimo ti muovi più silenziosamente vediamo prima no non mi piacciono le frecce di ferro lì assolutamente ci vedo quelle debano sì eccole ce l'ho aspetta mettiamoci più dietro magari qui mamma mia è bellissima è fantastica guardate gli occhi caso mai ve lo zoom se poi si vede poco eccezionale il simbolo al centro il simbolo la nightingale eh beh capisco perché molti si vestono così è proprio figa vediamo un attimo che io ci tengo molto cappuccio per carità per carità lo preferisco ma lo preferisco lo preferisco a questo punto sempre coperto con il cappuccio con queste vesti ci sta meglio il volto di il volto di Yankee comunque diciamo che lui sta molto meglio con la maglia d'ebano col viso scoperto la maglia d'ebano è perfetta per lui è incredibile è incredibile però questa questa corazza è proprio proprio bella non ci si può dire niente è fantastica guardate che roba mamma mia ok proseguiamo ah anche loro si sono vestiti sono stati rapidissimi una rapida occhiata una rapida occhiata curiosità due letti ce l'ho non voglio stare a svaliggiare le casse che poi adesso appartengono a noi a me anche quindi un po' da stupidi qui il luogo di allenamento scusa due letti dov'è il terzo a parte uno lì era in fondo si stai in un luogo talmente brutto per dormire cioè non c'entra niente lì anche perché quello teoricamente è per Carlaia no? l'unica ragazza magari è a parte però quindi deve stare in un luogo un po' più apartato lì è bruttissimo è un po' cose da dire va bene ragazza ci siamo vestiti e adesso? oltre questa porta c'è il primo passo per diventare un Nightingale ehi ragazza va bene la corazza ma diventare un Nightingale ne abbiamo mai parlato se vogliamo sperare di sconfiggere Mercer dobbiamo avere la protezione di Nocturne se deve accettarti come uno dei suoi bisogna concludere un accordo che tipo di accordo? devo conoscerne i termini i termini sono piuttosto semplici Brindorf Nocturnal ti permetterà di diventare un Nightingale e di utilizzare le tue abilità come meglio credi e in cambio sia nella vita che nella morte sarai un guardiano del sepolcro del Crepuscolo ah c'è sempre qualcosa sotto a questo punto credo ci sia poco da perdere se significa la fine di Mercer Frey conta su di me e tu? sei pronto a prestare giuramento a Nocturna? sono forzato più che altro e il fatto che sia nella vita e nella morte non mi piace affatto che significa nella morte? cioè una volta che moriamo i nostri spiriti oppure diventiamo guardiani simbolicamente o proprio i nostri fantasmi sono qui dentro a proteggere il sepolcro ecco una cosa del genere mi fa schifo per quando riguarda me per quando riguarda Enki diciamo anche come la penso io su queste cose qua servirla così anche dopo la morte addirittura vabbè comunque devo accettare per forza non è proprio il volere di Enki ma lo devo fare no questo sarei rincoglionito no 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 si sono pronto bene quando avrò aperto la porta rimani nel circolo occidentale ce n'è abbastanza da far girare la testa eh allora sia chiaro è una cosa che mi piace molto eh questa qui di Nocturnal che comunque ti dà ok diventi Nightingale hai la sua diciamo protezione su cose però devi rispettare quel patto è una cosa molto figa mi piace però non rientra insomma nel mio personaggio nel mio modo di fare modo di vedere oh 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 bisogna metterci lì in pratica tutte e tre prenderemo le posizioni e qui al centro arriverà lei sicuramente andiamo qui qui c'è una cosa bella figa alla alla il buono il brutto il cattivo io ti invoco Lady Nocturnal regina dell'oscurità e imperatrice dell'or ascolta la mia voce a carlaia mi stavo chiedendo quando avrei avuto tue notizie abbiamo perso qualcosa mia signora vengo davanti a te per mettermi alla tua merce e per prendermi la responsabilità del mio fallimento tu sei già carlaia i tuoi termini sono stati stabiliti tempo fa cosa potresti offrire un'ora ho altre due persone che vogliono restare in giuramento e servirti nella vita e nella morte mi sorprende carlaia questa offerta mi è decisamente favorevole il mio desiderio per la morte di mercer sovrasta quello di ricchezza vostra grazia vendetta interessante molto bene le condizioni sono accettabili procedi l'edì nocturna l'accettiamo i tuoi tempi ci consacriamo a te come tuoi guardi e tuoi vendicatori onoreremo il nostro accordo in questa vita e nella prossima finché le tue condizioni mi saranno soddisfatte molto bene nomino Nightingale i tuoi iniziati e riabilito ti al tuo rango precedente carlaia e ti consiglio di non deludermi nuovamente in futuro parla carlaia peccato solo peccato che non aveva una forma antropomorfa lei c'è soltanto questa questa energia peccato però fatto sta che mi sono gasato abbastanza mi piace quando si interagisce direttamente così con un daedra allora vediamo un po' cosa da dire ora che hai prestato giuramento è giunto il momento di rivelarti l'ultimo tassello del rompicapo il vero crimine di Mercer ha fatto altro Mercer è riuscito a penetrare nella camera blindata della Gilda senza bisogno delle due chiavi grazie a ciò che ha rubato nel sepolcro del crepuscolo la chiave dello scheletro ci avevo preso infatti anche voi ha compromesso il nostro legame con Nocturnal e in buona sostanza ha fatto esaurire la nostra fortuna anche voi mi avete detto che in pratica non avevo detto un'eresia vi ringrazio e va bene allora dunque la chiave apre ogni porta è tutto merito dei test passati queste cose sì ma la chiave non permette soltanto di superare le barriere fisiche tutti possediamo delle abilità nascoste il potenziale per sfruttare un grande potere nascosto dentro di noi una volta compreso che la chiave può accedere a queste caratteristiche il suo potenziale diventa illimitato allora la Gilda dovrebbe avere questo oggetto potremmo custodirla noi tre sembra che nessuna nessuno debba possederla allora se voglio fare il saggio questa mi sembra quella corretta nessuno debba possederla però è anche vero che noi dovremmo custodirla per non farla andare in mani sbagliate custodirla non significa utilizzarla quindi secondo me questa è quella giusta temo sia impossibile no ho sbagliato se la chiave non torna nella sua serratura nel sepolcro del piozzo ma ecco intendeva questo le cose non saranno più le stesse allora era quella sotto con il passare del tempo la nostra fortuna diminuirebbe fino a scomparire e che tu lo sappia o no il tratto distintivo della nostra attività è la nostra incredibile fortuna ho interpretato mare custodirla io cioè io volevo che riandava al suo posto ma noi da guardiani ok ok è la prima volta che restituisco qualcosa è vero verissimo ecco difficilmente nel nostro lavoro restituiamo un oggetto rubato al suo legittimo proprietario andiamo prima di andare Brignol fa delle cose di cui discutere ti consiglio di ascoltarlo bene ascolta ragazza prima di occuparci di Mercer c'è un'ultima cosa a cui pensare la guida della Gilda oh sapevo che sarebbe arrivato questo momento perché mi dici questo Carlaia e io abbiamo avuto una lunga discussione prima che tu arrivassi qui grazie ai tuoi sforzi il tradimento di Mercer è stato scoperto dopo che ci saremo occupati di lui non dovremo fare altro che riportare la Gilda ai suoi antichi fasti di conseguenza pensiamo entrambi che tu abbia le capacità necessarie per sostituire Mercer alla guida della Gilda dei ladri io che mi dici di te è tanto tempo che faccio questo una vita ho rubato collanea nobili e incastrato sacerdoti per assassini sono bravo in quello che faccio forse sono uno dei migliori ma non so fare altro non sono mai stato tagliato per il comando non l'ho mai cercato non mi è mai interessato non lo voglio allora vi dico la verità io non voglio diventare capo della Gilda però è una cosa che devo fare per forza non voglio sempre per relazione ad Enki ma qui è un è doppico non so cosa dire no perché sono emozionato significa no non trovo le parole per questa cosa che mi sta dando era ora che questo è da sbruffone no non è giusto nel senso rivolto a lui cioè io voglio che lui sia forse è meglio questa però tanto ascolta tutti i membri della Gilda ti ammirano per ciò che hai fatto forse non te lo diranno apertamente ma ti assicuro che è vero va bene e ora sanno che Mercer non ha mai agito per il bene della Gilda non conosceva la lealtà qualità che tu invece possiedi in maniera evidente non riesco a immaginare persona più adatta va bene allora facciamo così totalmente diverso era ora che me lo chiedessi perché non voglio fare il insomma l'emozionato ecco era ora che me lo chiedessi accetto allora è deciso quando sarà tutto finito i contatti di Delvin mi avranno garantito che abbiamo riacquistato potere a Skyrim ci occuperemo dei dettagli fino ad allora abbiamo parecchio da fare e infatti veniamo al dunque ho esaminato i piani che ci hai portato e sono convinto che gli occhi dei Falmer si trovano nelle rovine naniche a Irgintand Karlaia e io ti raggiungeremo lì preparati ragazzo sarà uno scontro indimenticabile immagino suppongo che ora siamo Nightingale già e ora alcune delle cose che ha detto Karlaia iniziano ad avere un senso Mercer potrà anche aver danneggiato la nostra reputazione e prosciugato le nostre casse ma questo va perfino oltre il suo perverso modo di rubare il vecchio Delvin continuava a chiamarla una maledizione e noi lo deridevamo per questo pare che alla fine fossimo noi quelli da deridere pensi che ce la potremmo fare contro Mercer? se me l'avessi chiesto ieri ti avrei detto di no ma ora penso che le nostre possibilità siano aumentate dammi del folle se vuoi ma io mi fido di Karlaia non credo che ci farebbe imbarcare in una missione suicida inoltre preferisco morire con la mia spada sporca del sangue di Mercer e passare il resto della vita a pentirmi di aver guardato dall'altra parte ok al nostro prossimo incontro ragazzi allora mi stavo chiedendo due cose una la prima è che devo andare a lasciare un po' di oggetti a casa e siccome ha menzionato una rovina nanica è probabile che la rovina si trova ad ovest quindi diciamo è possibile che passo davanti a casa mia e lascio gli oggetti uno due devo parlare ancora con carlaia che lei ha sicuramente altre discussioni per me forse è già uscita e e un'altra cosa che mi stavo chiedendo è ah eccola qui la chiave poi dove va messa la chiave dello scheletro qual è il punto il sepolcro cioè il punto esatto dove va incastrata forse era nella parte dove abbiamo parlato con nocturnal non ho fatto caso a qualche insenatura magari va bene lo scopriremo poi allora ecco potrò mai tornare nel salone nightingale non mi sento più forte in relazione a nocturnal che insomma con la chiave dello scheletro sottratta al sepolcro del crepuscolo temo che mercer abbia capito che nessuno di noi può godere dei doni di nocturnal ma lei ci ha parlato hai semplicemente prestato il giuramento hai firmato un contratto non scritto con nocturnal per ottenere le nostre abilità per vedere onorata la nostra parte di accordo temo che dovremo riportare la chiave al suo posto dunque nocturnal è arrabbiata con noi se nocturnal fosse davvero delusa da me o da chiunque di noi non avrebbe risposto alla mia chiamata non ho dubbi che ci favorisca ancora e credo che questo sia un vantaggio sufficiente per sconfiggere mercer fray si e dispiace ragazzo ho delle faccende importanti da svolgere eh parleremo un'altra volta lo so lo so benissimo comunque tutto chiaro tutto riporta e la perfezione va bene allora andiamo lì molto probabilmente taglierò la parte che arrivo a casa perché ormai l'ho fatto tante volte lasciare i giocetti non ha senso farvela vedere però prima vi ricordate quel libro Nightingale realtà o finzione era il titolo scritto da qualcuno che non ricordo il nome ecco adesso vorrei andare lì da lui stringergli la mano e dirgli complimenti per la ricerca perché lui insomma era uno di quelli che credeva che i Nightingale esistessero lui diceva che aveva delle prove tre o quattro prove tipo di due ex prigionieri uno di Wightran bellissimo questa scena una di Wightran una di prigioniero di Markart che in pratica avevano lasciato scritto nella prigione un qualcosa tipo il riferimento al simbolo dei Nightingale di Nocturnal e insomma faceva proprio menzione a a noi adesso ai Nightingale stessi quindi è stato bravo è stato bravo poi lui diceva mi ricordo concludeva il libro dicendo chissà se un giorno ne sapremo di più anzi lui faceva anche riferimento alla gilda dei ladri che forse alcuni membri tenevano nascosto appunto il sapere su questi Nightingale quindi ci aveva preso è stato bravo allora perché sto passando qui ragazzi beh semplicemente perché voglio andare voglio andare a prendere la carrozza in modo da andare verso casa avvicinarmi perlomeno verso casa quindi ragazzi taglio ci vediamo dopo ragazzi alla fine era completamente in altre zone c'è un drago la parte anzi no forse ce ne sono due vabbè uccidiamo bellissimo come l'ho stoppato no voglio fare una cosetta ma si non lo uso da tanto tempo divertiamoci in modo diverso poverino anche perché se ce ne sono due almeno mamma mia massacrato torna da Esbern perché perché il drago va perché torna da Esbern tu sei figo c'è qualcosa che non mi riporta perché torna da Esbern cosa ho fatto uccidendo quel drago qui chi c'è porca puttana è invisibile oddio ma dove è capitato dove sono capitato ok sta camminando vinturut se è qui si ma dove le frecce vinturut allora aspettate ragazzi aspetta calmi allora qui ci sono già stato io quindi non mi daranno mai sì qua ci sono già stato qui il drago si è schiantato questo vinturut ma vinturut è un nome sentito già ho ucciso lui oh sono convinto quello di Blackrich no vinturut faceva sempre parte dei draghi che incontrai in quel periodo quando uscì fuori da Blackrich vi ricordate ragazzi sta nelle puntate 75 79 lì erano 4-5 parti antica conoscenza si chiamava e vinturut è uno dei draghi uccisi in quel periodo perché trasplende un errore un bug è tornato in vita dai impossibile la sua anima queste cose dai non ha senso questo qui tra l'altro il drago è rimasto così non si è ci ha nomiato la sua anima e tra l'altro perché è tornata a Esbern cosa sta accadendo mi pare tutto strano secondo me è un bug sperando che non si è buggato la missione principale no è Esbern ok io salverò in una parte salvataggio a parte comunque per sicurezza poi ragazzi ditemi voi se è giusto così uccendo un drago magari dopo tot draghi ah siamo arrivati è lì comunque stavo dicendo prima che venissi interrotto che non si trovava nel luogo verso casa assolutamente no ci troviamo a nord di Riften quindi sono andato a Windelm e poi sono andato a piedi bah strano e qui scendiamo da questa parte ho sbagliato strada era dovevo andare giù allora se non è proprio assurda scendiamo da qui possiamo utilizzare forme terre eh volendo comunque possiamo le fare cose da professionisti no adesso siamo Nightingale ci mettiamo nell'ombra e arrivare dalla parte così in alto sicuramente non ci sgama nessuno si è perfetto è bellissimo così allora furtività al massimo eeeh ce n'è uno là hmm sinceramente lo so che ho la spada Nightingale ma qui mi piace usare la spada del supplizio dai anche se sono un ladro a dire il vero non devo uccidere allora facciamo una bella cosa cerchiamo di passare inosservati sarà dura ma io ho sempre 99 di furtività più gli stivali dici da quella ci possiamo muovere più silenziosamente vediamo se ce la facciamo ad aggirarli ok da lì possiamo aprire la parte in fondo guardate quanta roba abbiamo superato però è anche possibile che c'è un'altra porta sotto chissà sembra che qui sopra ce n'è un'altra a dire il vero ok no facciamo così quello è il capo dei banditi alla veste nord molti mi hanno chiesto old ma dove l'hai presa e ce l'hanno semplicemente i banditi i capi più delle volte fa parte comunque dell'espansione forse con dongard con dragonborn non so ogni volta mi dimentico e ogni volta voi poi me lo scrivete quindi comunque di base non c'è quella corazza allora allora ecco secondo me bisogna andare lì sopra bisogna passare proprio da là eh forse forse lui devo ucciderlo eh si dai non sta dormendo vero non posso dormire così che cavolo sto dicendo in testa dormono soltanto da sdraiati ok provo una una stronzata quasi lo scatturbinante ma sembra che lui mi vede dai ci voglio provare chissà se sono talmente veloce lui non riesce a vedere il movimento sarebbe fighissimo una cosa la dragon ball e ci provo forse faccio la cazzata mando tutto a puttane ma voglio provare sperando di non cadere sotto mi sembrava qualcuno oddio ora torna là per favore qui non c'è niente woody gaster non ci ha visto ragazzi possiamo andare si mi dispiace non aver visto nel forziere ma oh perfetto dai è bello fare così eeeh arcanics ok siamo andati all'interno allora ah c'è la seconda volta che perfetto c'è la seconda volta che cito woody gaster e l'ho detto anche nel video di oblivion nella prima volta nel video 101 è un ragazzo semplicemente che ci segue prima si chiamava jinkazamo si chiama così e che gli piace semplicemente molto la razza orchesca appunto e quindi per me gli orchi sono è lui è lui va bene è una cavolata mia siamo all'interno ragazzi io devo già salvare a dire il vero poco tempo come al solito sempre i miei problemi e sono felici però di interrompere il video qui ho sentito un cancello aprirsi no comunque mi ricordo cadavere mi ricorda cioè no mi ricorda che sto dicendo volevo dire rovine di morrowind ma no volevo dire anche secondo me qui c'è passato c'è passata carlaia ho fatto una strage guardate che roba oppure se invece sono stati banti sotto questi erano altri banditi che ci vivevano è probabile allora non voglio andare lì non voglio vedere cosa c'era nel forse non voglio fare niente voglio interrompere qua il video con questa armatura di una bellezza pazzesca sei molto figo eh che mi piace ma tu sei sempre per me con la maglia d'epano molto probabilmente tornerò a indossare quella devo vedere devo vedere un po' come si evolve tutta la faccenda qui ogni volta per me è una cosa nuova e quindi posso cambiare idea ad ogni puntata comunque ragazzi io vi ringrazio tantissimo questo video non so quando uscirà perché la connessione va e viene è una cosa disastrosa disastrosa teoricamente dovevo uscire il sabato mattina cioè teoricamente forse uscirà anche lunedì non lo so non lo so va bene ci vediamo comunque nel prossimo video che sarà molto probabilmente di croniche mitologiche vi auguro un buon fine settimana sperando che questo video non uscirà di lunedì altrimenti passate semplicemente una buona giornata ciao a tutti ragazzi grazie a tutti